Ogni mattina a Messina, un cittadino incivile esce di casa e deve decidere in che posto buttare la spazzatura. Oggi vorrei trovare un posto alternativo. Potrei buttarla in un torrente. Potrei anche lasciarla in campagna. Ma perché non bruciarla? O potrei lanciarla al volo dalla macchina? Sulla rampa dell'autostrada. La potrei lasciare in un parcheggio. Meglio se panoramico con vista sullo stretto. Torrente, campagna, parcheggio, rampa, spiaggia, discarica, torrente, torrente, campagna, campagna, parcheggio, rampa, spiaggia, brucio, lancio, discarica, torrente, torrente, campagna. Sono indeciso. Forse è meglio se chiedo aiuto a qualcuno. Dove si butta la spazzatura? Questa cosa è differenziata. Eh sì. Qua non ce ne sono abitanti. Non ce ne sono cazzonetti. Stanno facendo la raccolta differenziale. A posta la è piena di spazzatura nella strada. Perché su Cristiano e su Maleducati. Sono sporchi. Stamattina sono venuti qua. Qua fanno discarica? Sì. E tutti i giorni vengono a pulire. Perché il comune ha portato già i biloncini. Perché sono loro che sono sporchi. Prego il comune perché loro vengono a pulire. No, vengono a pulire. Scusi signora, la spazzatura dove si può buttare qua? Per la raccolta differenziata. Eh ma io non la faccio. Dove si butta la spazzatura? Non ce ne sono cazzoni qua. Le differenziate devi fare in questo palazzo. Fanno la differenziata? Sì sì. E anche c'è spazzatura intassata pure. Eh non so. Però se li prendono sono guai. E non faccio differenziata. Dove si butta la spazzatura? Non ce ne sono cazzonetti? C'è la differenziata. Eh ma io non la faccio. La gente la butta. Ho visto. Ma se li beccano fino a quando non vengono poi beccati. Vabbè se c'è l'indifferenziata funziona. Allora funziona la raccolta differenziata porta a porta. E' meglio fare il cittadino civile e tornare a casa. A presto. 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 A presto.